Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Non so se vi ricordate, ma spesso ho fatto dei video dall'inizio alla fine di casi italiani molto famosi, veramente dettagliati, dettagliatissimi, perché appunto sono molto famosi, quindi ho fatto a lungo delle ricerche ed è da un po' che non ne registravo uno, perché ho avuto poco tempo per concentrarmi su un video in particolare, ma ce l'ho fatta. Quindi spero che questo video sia gradito a coloro che amano il dettaglio, a coloro che amano le storie italiane, a coloro che amano le storie. La storia della famiglia Carretta vi sembrerà una storia trita e ritrita, conosciuta, ma credetemi, oggi la affronteremo da tutte le angolazioni e nell'ultima parte, proprio l'ho tenuta nel finale, scenderemo nell'abisso della mente di Ferdinando Carretta e credetemi sarà un viaggio incredibile. Non vi ho risparmiato veramente nulla oggi, partiamo. Parma, 28 agosto del 1989. Le ferie sono finite e ci troviamo davanti i cancelli di una fabbrica vetraria dove i dipendenti sono pronti a riprendere l'attività. Tutti tranne uno. Il cassiere. Giuseppe Carretta. Di lui più nessuna notizia da quando, all'inizio del mese, aveva salutato i colleghi ed era partito in camper con la moglie, Marta Chezzi, e il secondo genito, Nicola. A casa è rimasto Ferdinando, il figlio maggiore. Ma quando, alla fine, i parenti preoccupati bussano alla porta dell'appartamento in via Rimini, numero 8, non trovano nemmeno lui. E il primo allarme arriva proprio dalla ditta per cui il ragionier Carretta lavora da tantissimi anni, ovvero la Cerde. I colleghi ribadiscono che Giuseppe non è mai arrivato nemmeno con un minuto di ritardo, figuriamoci, con dieci giorni. Così, il 5 settembre, dopo un mese esatto dalla scomparsa dell'intero nucleo familiare dei Carretta, Adriana Chezzi, sorella di Marta, va in caserma per denunciare la scomparsa della famiglia. Racconta al carabiniere che inizialmente aveva pensato ad un guasto del camper, ma ormai il silenzio non ha più spiegazioni. Sin da subito la stampa e la televisione trovano golosa questa vicenda, che chiamano il giallo del camper. Ma questa vicenda per gli inquirenti è davvero spinosa. Dove erano diretti Carretta quando sono partiti? In ufficio ai colleghi Giuseppe aveva parlato del Marocco, ma i vicini e i parenti parlano della penisola iberica, Spagna, Portogallo e Gibiliterra, e se fosse rimasto del tempo casomai il Nord Africa, Tunisia e Marocco. Un collega invece del figlio Nicola parla con sicurezza della Jugoslavia. C'è tanta confusione. Le prime ipotesi riconducono a una qualche disgrazia, forse ad un incidente stradale. Il camper è finito in mare, oppure uno sbarrimento nel deserto nordafricano, dove una tempesta di sabbia li sorprende, o magari si trovano in qualche carcere, oppure qualche banda di rapinatori li ha uccisi. Molti però riflettono sul fatto che qualche notizia da un'ambasciata italiana sarebbe a quel punto arrivata. Il Ministero degli Esteri fa subito dirammare una segnalazione nelle sedi diplomatiche dei presunti paesi di interesse per la vacanza, ma senza alcuna informazione utile. Dopo 15 giorni di indagini, quella che, all'apparenza, è una normale famiglia della media borghesia, un padre ligio, ragioniere, una madre casalinga e due figli ancora all'interno del nido domestico, viene avvolta dal mistero. I figli dei Carretta finiscono sotto la lente di ingrandimento. Prima Nicola, di cui si parla per conclamati problemi di tossicodipendenza. Si parla di una lettera ritrovata in casa dei Carretta e scritta da Nicola che dice «Sento il bisogno di cambiare questa vita balorda». E poi c'è il figlio maggiore, Ferdinando, che presto compirà 27 anni. Parenti e vicini confermano che Ferdinando non ha mai accompagnato i genitori e il fratello in vacanza in campere e anche questa volta Marta aveva raccontato ai vicini che il suo primo genito Ferdinando sarebbe rimasto a casa. Eppure lui a casa, fatto strano, non c'è. Avrà cambiato idea all'ultimo minuto? Sarà partito per cercare i suoi? Ma poi salta fuori che pochi giorni dopo la partenza dei suoi genitori, l'8 agosto, Ferdinando va in banca e incassa 6 milioni di lire dei conti del padre e del fratello. E da quel momento si dissolve. La svolta arriva qualche mese dopo, una domenica di novembre, in televisione a chi l'ha visto. Quel giorno in redazione sono presenti Paola Carretta e Adriana Chezzi, sorelle di Giuseppe e di Marta. Arriva una telefonata, c'è un uomo in linea. Racconta che davanti alla sua abitazione a Milano, in via Retusa, c'è un camper Ford Autoroller 34, bianco, costrisce e marroni, parcheggiato da mesi in quella strada. I numeri della targa l'uomo li ricorda a memoria e sono proprio quelli giusti. L'uomo si è persino giocati all'otto dal momento che lui è di Parma e gli era sembrata una coincidenza fortuita. Il camper è lì, è lui. La portiera accostata, dentro è tutto pulito in ordine, un maglione azzurro, un cuscino, carte stradali. Nel frigorifero acqua, minerale e lattine di Coca-Cola. Le tendine sono tirate su, la lucetta interna è accesa, l'orologo è un'altra. L'orologo del cruscotto funziona e segna un'ora in più, quella legale in vigore d'estate. E allora tutti sono certi. La famiglia Carretta è fuggita. Ma dove? E soprattutto, perché? Pensano due piste. I problemi di Nicola con la droga. Sono fuggiti per aiutarlo e proteggerlo. Ma allora perché non comunicarlo almeno a qualche amico, a un parente? E poi il tema della tossicodipendenza è poco chiaro. Poi c'è la pista più battuta, legata al lavoro di Giuseppe Carretta e i compiti di fiducia a lui affidati nel gestire il patrimonio aziendale della Cerve. In sintesi, stringiamo, Giuseppe Carretta sarebbe fuggito con le casse. Ma l'azienda toglie il patos. Non risultano ammanchi. Nonostante questo, si continua a pensare che Carretta abbia svolto per l'azienda affari poco puliti, tipo fondi neri occulti, nascondendo utili della società. Nei due anni seguenti, passano due anni, si fa strada una nuova ipotesi. Che la famiglia Carretta sia fuggita con un patrimonio accumulato dal ragionier Carretta grazie ad un secondo lavoro. L'uomo avrebbe avuto numerosi conti svizzera, dove ha depositato soldi di diversi clienti ricconi. Insomma, passano gli anni e tirando le somme, che si tratti di un giro d'affari personale o di una truffa aziendale, l'ipotesi è accreditata e che Carretta siano fuggiti all'estero e che stiano vivendo da nababbi, vivi e vegeti. Iniziano anche gli avvistamenti. Molti dichiarano di aver visto i Carretta, da Torre Canne, in Puglia, dove li avrebbe visti un tabaccaio, a Genova, a Modena, a Biella. A Parma i parenti, intanto, iniziano addirittura a ricevere cartoline di saluti, firmate ogni volta da un componente della famiglia Carretta diverso. E queste cartoline arriveranno per anni. Arrivano anche molte lettere anonime alla polizia e tutto questo, incluso ruolo di stampa e televisione, contribuiscono a creare una grande confusione, una grande allucinazione collettiva. I mezzi di informazione spingono tantissimo per una fuga all'estero. Sono moltissimi i titoli di giornale che ipotizzano i Carretta stramilionari ai Caraibi o a Caracas. Sulla famiglia Carretta inventano ogni cosa. Che Marta Chezzi sia stata stroncata da una malattia e Giuseppe Carretta si sia risposato con una donna giovanissima. Che Nicola, il secondo genito, allevi i cavalli da corsa, mentre invece Ferdinando è sempre nell'ombra, meno popolare. Ma, nonostante tutte queste chiacchiere, negli uffici della magistratura da anni, il clima che si respira è molto diverso. Non c'è nessuna fuga e dietro a tutto questo un unico componente familiare, il primo genito, Ferdinando Carretta. Ferdinando, che pochi mesi prima della scomparsa della famiglia, aveva acquistato una pistola e poi aveva prelevato i soldi dai conti correnti bancari di padre e fratello. Nella cantina di famiglia ci sono ancora le valigie e i viveri per partire con il camper. Giuseppe Carretta, inoltre, aveva da poco rinnovato i titoli di Stato per il valore di 10 milioni e stava procedendo all'acquisto di un terreno nei pressi di Parma. I parenti giurano che è impossibile che loro siano fuggiti e i dirigenti dell'azienda Cerve, invece, ammetteranno sì la presenza di fondi neri della società pensate, ma dichiareranno che il ragionier Carretta, uomo irreprensibile, non ne sapeva nulla. E dunque tutto porta a lui, al problematico figlio maggiore, Ferdinando. E quanto problematico? Lo vedremo poi. Ma a questo punto della storia è molto difficile staccarsi dal sogno, dall'idea della favola per piombare nell'incubo. Seguitemi, cari. È meglio crederli ricchi e felici da qualche parte, come in una grande allucinazione collettiva, ripeto, che cenere ormai dispersa. Ma è arrivato il momento di svegliarci. Londra, 27 ottobre del 1998. Sono passati nove anni. Nel tardo pomeriggio un Pony Express, a bordo di una Suzuki, sta cercando di effettuare una delle sue ultime consegne quando incontra un posto di blocco. Agli agenti mostra una patente provvisoria che riporta un nome italiano, Antonio Ferdinando Carretta, di Parma. Fornisce un indirizzo dell'Essex, area periferica nord-est della capitale. Poco dopo viene lasciato andare. Rimasto solo, il poliziotto incommissariato digita sul computer quel nome e con sua enorme sorpresa scopre che ne esiste uno identico nelle liste dell'Interpol alla voce Missing, scomparso. Altra breve verifica porta alla luce un'altra coincidenza. Forse. L'uomo fermato è nato lo stesso giorno della persona schedata. Così parte una segnalazione che da un paese rimbalza all'altro e arriva su una scrivania della procura di Parma. Nelle settimane seguenti, così dall'Italia a Londra, arrivano alcuni membri della pulizia giudiziaria che, insieme ad un agente della Metropolitan Police, si recano all'indirizzo dell'Essex fornito al momento del fermo. Quando bussano, Ferdinando Carretta apre la porta e per gli inquirenti che sbirciano oltre alle sue spalle in quel piccolo monolcale disordinato, è una sensazione a metà tra allucinazione e sogno. Nove anni che lo cercano. Ed eccolo lì. Carretta sembra confuso, ma risponde alle domande. Spiega di non avere più notizie della sua famiglia dal 1989, quando dopo aver raggiunto insieme il Regno Unito, si erano divisi. Mamma, papà e Nicola erano partiti per il Sud America con i fondi neri della cerve. In quel momento gli agenti non hanno nulla contro di lui, quindi lo ascoltano, lo salutano e vanno via. In questo momento c'è la massima discrezione sulla notizia, onde evitare delle fughe, ma in ogni caso qualcosa trapiela, perché Matteo Montan, 35 anni, capo cronista, sale su un volo per Londra a caccia dello scoop. Matteo Montan ha seguito il caso di Carretta fin da quando ancora si batteva la pista dell'incidente nel deserto e lui era appena stato assunto. È molto determinato, quindi arriva dritto davanti alla casa di Mattoni Rossi, dove abita Ferdinando. Lo incontra e lo intervista. E l'indomani la Gazzetta di Parma esce con un'edizione straordinaria di ben otto pagine. A Montan, Ferdinando racconta quanto già detto i poliziotti a grandi linee, ma con tante incongruenze questa volta, lui non sa nulla del resto della sua famiglia. È vero, ha preso i soldi dai loro conti bancari perché lo avevano abbandonato e lui desiderava solo ricominciare una nuova vita. Dopo questa intervista, Ferdinando però scompare, anche se fuori da casa sua orde di giornalisti di troupe televisive premono contro la sua casa, ma lui si fa di nebbia e il suo telefono squila vuoto da giorni. Perché? Perché Ferdinando, in effetti, dal giorno dell'intervista a Montan, non è più lì. Si trova in un anonimo albergo della città con un cameraman e con Giuseppe Rinaldi, regista di chi l'ha visto. Rinaldi è stato in tutto il mondo a caccia di carretta in quegli anni. Lui è stato questa volta più veloce degli altri e Ferdinando lo ha accolto pochi giorni prima nel suo monolocale quando le acque erano ancora calme. È la sera del 25 novembre e Ferdinando però non vuole rilasciare alcune intervista né audio né video. Preferirebbe solo una chiacchierata sul divano. È la terza volta che bustano alla sua porta. Inizia riproponendo la solita versione, non so niente, non sono stato io. Rinaldi lo ascolta e basta e dopo un po' gli chiede solo, gentilmente. Ma tu, Ferdinando, sei interessato alle sorti della tua famiglia? Vuoi lanciare un appello televisivo per convincere di farsi vivi? E lì qualcosa avviene. Qualcosa, non so dirvi che cosa, tocca quell'anima fragile e rompe l'involucro dell'omaccione di 36 anni accasciato sul divano con gli occhi spenti. E allora lui, con la voce flebile che sembra provenire da lontano, per la prima volta solleva lo sguardo e chiede E se i miei genitori non mi potessero sentire? Giuseppe Rinaldi descriverà quel momento catartico come la rottura di una diga Ferdinando permette ai suoi ricordi di fluire e fino a tredanotte racconta ogni dettaglio di quel lontano 4 agosto del 1989 Un fiume in piena Lo convincono dunque a spostarsi nell'hotel dove Rinaldi e il cameraman alloggiano e nei giorni successivi in quell'albergo lui racconterà di nuovo tutto davanti all'obiettivo Quindi producono una videocassetta pronta a rientrare in Italia insieme a Reo Confesso Il 29 novembre Ferdinando Carretta dice addio alla sua vita londinese una vita dentro ad una bolla piena di pieghe in cui si celano orrori che ora è pronto forse ad affrontare Il suo volo, la Z205, attara l'aeroporto Fiumicino alle 15.55 Ferdinando scende per ultimo, indossa una camicia di flanella a scacchi un giubbotto grigio bombato, dei jeans chiari e delle scarpe di tela rosse ed ad accoglierlo un paio di manette e 15 agenti di pulizia e carabinieri Carretta sembra perso sale su una Fiat Brava scortata da diverse gazzelle e raggiunge Parma di nuovo Su questo arresto scoppiano diverse polemiche C'è chi lo ritiene un arresto spettacolo come ad esempio la redazione di Chi l'ha visto ma poi quando la sera dopo il programma Chi l'ha visto manda in onda la confessione del triplice omicidio in prima serata la critica gli si ritorce contro La confessione integrale di Ferdinando Carretta viene mandata in prima serata ed è un evento spettacolare mai accaduto prima su Chi l'ha visto in diretta Il volto bianco di Ferdinando Carretta compare subito dopo la sigla e ci rimane per oltre un'ora Parla in modo lento, chiaro e pacato con voci e occhi spenti non guarda mai la telecamera a volte rimane zitto per alcuni secondi e abbassa lo sguardo a terra Queste sono pause di grande fatica in cui perde il filo del pensiero o cerca le parole Lui sta lì in prima serata a raccontare come ha scaricato i suoi più bassi istinti diabolici sull'intera famiglia e quando lo fa si copre le labbra con le dita come se volesse fermare quelle parole e proteggere per un attimo ancora la realtà esterna dal loro portato maligno ma è molto tardi Ci saranno altre polemiche e questa questione finirà anche in Parlamento cioè il fatto di aver mandato in Rai una confessione così ma appunto ormai è comunque tardi La trasmissione ha tenuto inchiodati davanti alla tv 3.700.000 spettatori e allora è giunto anche per noi il momento adesso Spalanchiamo le porte dell'orrore Il desiderio di uccidere la sua famiglia matura in Ferdinando nel corso degli anni è un processo lento fatto di travagli interiori di turbe psichiche e di sociopatia un desiderio che si trasforma in un progetto e che si concretizza con un gesto procurarsi un'arma Inizialmente lui pensa di colpire il padre in testa con una bottiglia di vetro piena d'acqua ma poi affrontare la madre e soprattutto il fratello a mani nude lo spaventa così decide di osare e di procurarsi una pistola A inizio 1986 va in Sicilia con l'idea di procurarsi un'arma al mercato nero ma non va in porto Fa approfondite ricerche e il 3 febbraio si reca a Reggio Emilia all'armeria Albenghi Lui mostra al titolare una licenza sportiva per uso al poligono rilasciatagli un mese prima dalla questura Ha pochi soldi dunque chiede un'arma poco costosa una Walter calibro 635 di seconda mano al costo di 300.000 lire L'armiere gli fornisce anche 24 proiettili Ed ora la mano di Ferdinando è armata ma prima di rientrare a casa fa un altro acquisto sconcertante certo per noi che sappiamo acquista dei grandi teli lui desidera passare all'azione quanto prima proprio scalpita nell'eliminazione sistematica della sua famiglia lui ormai ci vede l'inizio del suo processo di liberazione e rinascita vorrebbe agire durante le vacanze di Pasqua ma ci sono troppi intralci dunque desiste nel frattempo di notte si reca in campagna e spara contro le frasche assaporando il momento l'occasione giusta arriva con la prospettiva delle vacanze estive infatti nel mese di agosto Giuseppe, Marta e Nicola hanno in programma la solita vacanza in camper mentre Ferdinando come sempre resterà a casa da solo in primavera si inizia già a parlare con entusiasmo della cosa quindi di fare un tour della Spagna e del Portogallo raggiungendo Gibilterra e da lì forse prendendo un targhetto per il Nord Africa a marzo Giuseppe si presenta agli uffici a Sitalia e rinnova le polizze del camper poi la vita prosegue in monotona come sempre nell'attesa intanto Giuseppe e Marta iniziano a parlare con i colleghi e i parenti dei loro progetti estivi la data della vacanza si è vicina e dunque fermano i preparativi pochi giorni prima Giuseppe e il figlio Nicola vanno al concessionario in roller in cui 5 anni prima hanno acquistato il camper acquistano una bombola di gas e una valvola per la canna fumaria poi Giuseppe va da Carlo Fragni il suo gommista di fiducia e gli racconta che andrà piuttosto lontano e quindi acquista anche un treno di ricambio poi si ricorda anche che i suoi titoli di stato sono in scadenza e quindi corre a rinnovarli chiede ad un collega della contabilità di cambiargli un assegno da 3 milioni per avere dei soldi liquidi ma non riescono a completare l'operazione così il ragionier Carretta decide di ritirare 3 milioni dalla cassetta della Cerve lasciando però all'interno un assegno di importo corrispondente a copertura e arriva il 4 agosto il ragioniere saluta tutti i suoi colleghi ed ha appuntamento loro alla fine del mese la Cerve infatti chiude per 3 settimane per la pausa estiva Marta intanto sbriga a casa le ultime faccende domestiche pulisce le scale comuni cucina e lascia in freezer scorte per Fredinando acquista genere alimentari da caricare sul camper e chiede agli altri condomini di innaffiare i fiori per lei porta la signora Puliti una pianta di rosmarino e le chiede di travasarla nel suo giardino quel pomeriggio del 4 agosto dunque in casa a carretta si respira la tipica aria di frenesia che precede una partenza ci sono le cose da fare per cui si è ridotti all'ultimo e quelle di cui ci si è dimenticati le cerniere delle valigie dei borsoni vengono tirate su una dietro l'altra e fino al tardo pomeriggio è un continuo via vai dalla loro abitazione al cortile esterno dove è parcheggiato il camper però a Ferdinando a questa gaia atmosfera non partecipa è inglobato nella sua stanza immerso nei suoi pensieri paranoici e medita forse è davvero quello il momento giusto in uno stato di completa alterazione Ferdinando passa in rassegna gli ostacoli tra lui e l'obiettivo fra lui e il suo riscatto tra poche ore lui lo sa la palazzina sarà vuota la famiglia Ghidini andrà come ogni venerdì sera alla riunione dei testimoni di Geova mentre la famiglia Vaghi è partita per le vacanze estive intorno alle 20 Ferdinando vede uscire l'ultima condomina rimasta la signora Vaghi nella mappa del suo progetto omicida per la prima volta in tanti anni tutte le tessere sono al loro posto e anche la fortuna è dalla sua perché la madre spedisce Nicola a sbrigare un'ultima commissione in un negozio ora senza il fratello tra i piedi nessuno può fermarlo apre la porta della sua stanza e va nel bagno si guarda allo specchio e pensa ora o mai più la pistola è pronta da tempo il caricatore pieno Ferdinando fa il giro della casa e passa il rassegna porte e finestre chiudendole fa lo stesso in cucina dove la madre Marta sta cucinando la cena è agosto è caldo ma Marta Chezzi è abituata alle stranezze del figlio negli anni ha imparato a far finta di niente a volgere il suo sguardo altrove ma questa volta proprio non dovrebbe invece no non lo considera non protesta nemmeno non immagina che le stravaganze del figlio maggiore questa volta abbiano per lei un finale devastante ovvero sigillare la casa impedendo la propagazione del rumore prodotto dai colpi di arma da fuoco Ferdinando entra in bagno arma in pugno attende il ripostio è nella stanzetta di fronte e sa che il padre tra poco vi entrerà per prendere le ultime cose da caricare ecco c'è rumore di passi nel corridoio Giuseppe apre la porta dello sgabuzzino accende la luce e si china su scatoloni e valigie Ferdinando si avvicina ma non vuole colpirlo alle spalle vuole che lui lo veda deve guardare la morte in faccia avere paura e deve sapere che è stato proprio lui il figlio torturato e abbandonato a porre fine alla sua esistenza così appena il padre Giuseppe si volta gli spara al petto cinque volte vorrebbe scaricargli tutto il caricatore ma ora tocca a mamma spaventata dai rumori la signora Marta con il cuore in gola si affaccia sul corridoio cosa succede cosa stai facendo suo figlio le va incontro con l'arma stesa meccanicamente un solo sparo cade a terra priva di vita Ferdinando si muove come una macchina appena reciso il sipario che dalla fantasia conduce alla realtà è il momento del fratello Nicola trascina dunque il corpo della madre dall'ingresso fino al fondo del corridoio e pulisce il sangue ricarica la pistola e lo attende Nicola il fratello minore intanto non lo sa ma lui è già morto per Ferdinando uccidere il fratello equivale a chiudere il cerchio e ottenere la sua liberazione Nicola apre la porta di casa e non si accorge di nulla va verso la camera da letto ma appena entra nel corridoio vede il corpo della mamma e accanto in piedi in silenzio c'è Ferdinando non corre via è sconvolto va incontro al fratello e gli dice che cosa hai fatto che cosa hai fatto ma Ferdinando non risponde esplode contro Nicola tutto il suo caricatore prima al petto e mentre il fratello si trascina per terra gli spara di nuovo dritto dentro l'occhio poi Ferdinando torna dal padre l'uomo non respira più ma non gli basta ancora ricarica la pistola la bassa e la scarica nella tempia del padre il sangue nell'appartamento dei carretta è ovunque e il suo rito sacrificale ora è compiuto è tempo di applicare il piano B quindi Ferdinando che è in pieno delirio ma sa bene cosa fare decide di spostare il camper dopo mezzanotte guida fino alla chiesa del Cristo risorto due minuti appena da casa e lo parcheggia torna a casa a piedi a questo punto noi entriamo se possibile dentro l'orrore ancora più vivido perché Ferdinando per tre giorni convive con i cadaveri di quella che era la sua famiglia padre madre e fratello si sveglia fa colazione va in bagno e loro sono sempre lì li ha trasportati nel bagno grande e posizionati uno sopra l'altro nella vasca a Parma ci sono ben 28 gradi e agosto le finestre sono spalancate ma l'odore è devastante anni dopo quando racconterà tutto Ferdinando cadrà in uno stato di profonda angoscia ricordando quelle percezioni olfattive e dirà ma tu lo sai lo sai qual è l'odore dei morti poi lui smonta l'appartamento per pulirlo a lucido e lo rimonta una pulizia così clinica così chirurgica che tutto brilla la quarta notte si disfa dei corpi li avvolge all'interno dei tratteloni poi li carica come sacchi in spalla e uno alla volta passando per una scala interna li porta nella zona dei garage ha già posizionato lì la Fiat Croma del padre con i sedili abbassati mette dentro i corpi e parte quelli sono gli ultimi minuti con la famiglia Carretta la sua famiglia si dirige verso l'argine del torrente Parma lì la terra è soffice per la sepoltura ma c'è un problema c'è una macchina con una coppietta in intimità sono già le quattro il cielo si sta schiarendo allora deve fare in fretta si ricorda che a via Rolo c'è una grande discarica abusiva non c'è più tempo per fare in modo decoroso arriva la discarica identifica un grande spazio di sabbia e scava tre rifiuti vi lascia i corpi li ricopre e torna alla macchina tornato a casa c'è il problema del gatto vive con loro da tanti anni mi angola tanto in quei giorni forse ha fame o siete forse chissà Ferdinando non se ne cura gli dà fastidio esclude di portarlo con sé potrebbe abbandonarlo quel povero gatto ma decide di ucciderlo lo infila nella gabbietta lo chiude insieme alla pistola e lo lancia in un canale Ferdinando continua a pulire l'appartamento soprattutto il bagno poi la mattina dell'8 agosto sposta il camper in un parcheggio nella zona sud tornato a casa prepara il borsone lo spazzolino da denti i vestiti e qualche gioiello della madre prende due assegni dal cassetto del salotto uno del padre e uno di Nicola e trascrive il massimo importo incassabile 5 milioni e un milione falsifica le firme e riscuote alla banca poi si accorge che la sua carta d'identità è scaduta e va a rinnovare il documento in comune tranquillamente va in Edicola e acquista la gazzetta di Parma Ferdinando carretta prende il camper e a 26 anni abbandona per sempre il suo passato la sua famiglia e la sua città il camper sfreccia sull'autostrada a 15 superando l'appennino tosco emiliano verso la Liguria Ferdinando guida senza una meta precisa e assapora la libertà inizialmente lui vorrebbe raggiungere la Francia ma poi non è più convinto così si ferma a Chiavari la notte tra l'8 e il 9 agosto poi la mattina dopo si dirige a nord arriva in Lombardia guida senza sosta e passa la giornata e la notte a Como poi va a Milano e decide di abbandonare il camper lo parcheggia come sapete in viale a retusa e spera che lo rubino lasciando lo sportello aperto e le chiavi inserite nel quadro prende la metropolitana e stazione acquista un biglietto sola andata per la Svizzera Zurigo Basilea Parigi Evre in Normandia qui sale su un traghetto e sbarca in Inghilterra a Portsmouth poi Londra resta solo due settimane vorrebbe andare in America ma alla fine sceglie il Canada dal momento che non serve il visto sette giorni dopo però capisce che per lui la vita non è sostenibile lo terrorizzano i racconti del freddo in arrivo così sale su un autobus alla volta di New York al confine però a Buffalo il bus viene fermato e gli chiedono dei documenti che Ferdinando non ha entra in profonda agitazione ma alla fine ottiene il visto ed entra a New York l'entusiasmo l'entusiasmo iniziale però diventa presto disagio quando alza gli occhi Ferdinando non vede più il cielo ma solo grattacieli nel 1989 quando lui arriva nella grande mela stanno tirando su un altro grattacielo i 60 di Wall Street 55 piani si ferma qui solo un mese svolge lavoretti saltuari appoggiandosi alla comunità di Little Italy a Manhattan ma capisce che non otterrà la green card ed è forte lui l'idea di sistemarsi per sempre così riprende l'autobus e poi in aereo da Toronto arriva di nuovo a Londra in questo periodo storico qui ci sono gli scontri con l'organizzazione IRA per l'indipendenza dell'Irlanda del Nord in questa cornice con pochi soldi e senza un lavoro fisso Ferdinando prende un bilocale in affitto in un palazzone popolare il Frank Slater House al numero 8 di Green Lane quartiere Ilford Ferdinando usa qui il suo vero nome sempre inizia a lavorare nel campo della ristorazione in quello del catering e dopo essersi ambientato chiede al dipartimento del lavoro e delle pensioni l'insurance number ovvero un codice identificativo indispensabile per lavorare regolarmente quindi per avere un contratto in regola e qualche mese dopo inoltre la domanda per il sussidio di disoccupazione poi passa ai nove anni successivi vivendo grazie a questo sussidio e ad impieghi nel campo delle spedizioni come Pony Express a bordo di una Suzuki nera comprata rate il suo nome di trasportatore è Alfa 90 grazie a questo lavoro stabile si trasferisce nel posto dove verrà rintracciato il numero 38 della strada Blacksmith Clothes a Romford un subborgo della periferia povera con case tutte uguali a schiera basse e con mattoni rossi il suo monolocale ha un cucinotto e un bagno un divano grigio una libreria un armadio un letto affitta un box poco distante per la moto per una tv e lo stereo ma qui tiene anche i dettagli per una sua possibile fuga documenti falsi e una carta di identità di un cittadino spagnolo a Londra Ferdinando vive una vita povera ma non di miseria povera di relazioni soprattutto lui racconta al suo datore di lavoro di vivere con moglie e figli una volta in Italia dirà di aver avuto anche qualche ragazza in realtà dai suoi tabulati telefonici si scopre un abisso di solitudine un'assenza di qualsiasi rete sociale lui frequenta qualche volta solo i colleghi della ditta di spedizioni con cui a volte passa le festività e loro lo soprannominano the thin man l'uomo scatoletta perché durante le pause lui mangia solo cibo precotto in lattina come il tonno così subisce la sua nuova vita Ferdinando una vita attraversata ancora dalla morsa della malattia mentale ma che lui percepisce come più sopportabile una vita interrotta all'improvviso il 27 ottobre del 1998 da un posto di blocco e ve l'ho raccontato ma ora parliamo nel dettaglio della famiglia che Ferdinando ha cancellato dalla sua esistenza la sua famiglia tracciamone un ritratto della famiglia Carretta è il caso di dire a casa tutti bene i Carretta vivono al numero 8 di via Rimini a metà tra il centro e la periferia di Farma zona residenziale quindi proprio questa posizione proprio significativa per il ritratto della loro famiglia appartamento di 120 metri quadrati uno tra quattro appartamenti all'interno di una palazzina e mattoni rossi un piccolo prato con due pini due magnoli e garage e magazzini sul retro e una recensione di Farro come perimetro acquistano questo posto e ci si trasferiscono nel 1973 ed è impossibile pensare allora che da quel punto di origine sgorgerà il male è il posto perfetto per Giuseppe Carretta perché è molto vicino alla Cerve la ditta dove lui lavora dagli anni 50 non si sa molto su Marta Giuseppe Nicola ma semplicemente perché la famiglia Carretta è molto chiusa e riservata a tratti impenetrabili al resto del mondo Giuseppe è un uomo semplice si sposa presto il primo figlio a 26 anni una vita dedicata al lavoro sempre il primo ad arrivare l'ultimo ad andare via lui avverte anche quando buca la ruota della bicicletta in lui l'azienda Cerve ripone una fiducia cieca e quando verrà accusato di essersi intascato dei soldi della Cerve l'azienda lo difenderà a spada tratta la ragione è che Giuseppe sì negli anni ha anche curato le entrate dei famosi fondinieri però comunque è dimostrato che era un uomo rispettabile non ha mai rubato un soldo alla sua azienda al di fuori del lavoro Giuseppe ama pescare e andare in barca a vela possiede una barca ormeggiata al porto di Torricella nel fine settimana o va in bici o fa jogging ogni mattina va in edicola e acquista tutto sport è un padre molto severo non ha mai instaurato un vero dialogo con i suoi figli è un uomo schivo che non ama la socialità c'è un aneddoto che racconta la sorella di Giuseppe Paola racconta che in una vacanza in camper in Liguria un altro viaggiatore di Parma vedendo la targa di carretta si ferma e saluta Giuseppe ne è così infastidito che cambia programma ricarica le valigie e se ne va passiamo a Marta Marta Chezzi classe 1939 è una donna minuta con i capelli corti tinti di biondo e cotonati come si usa al tempo ama indossare anelli e collane ma in modo molto discreto e ha un carattere più mite del marito è riservata anche lei a modi pacati ma con i figli è comprensiva e paziente è una casalinga e la sua vita gira intorno alla famiglia si occupa di tutto lei faccende domestiche spesa cucina e dell'educazione dei due figli Ferdinando e Nicola con i quali fino ad un certo punto è molto unita frequenta la chiesa va a messa ci tiene rapporti di buon vicinato regala ad esempio ai vicini il pesce pescato dal marito e si occupa degli spazi comuni prima che i suoi figli entrambi inizino a darle pene è una donna soddisfatta della sua vita lei e il marito hanno una gestione oculata del loro patrimonio e godono di un discreto benessere infatti oltre all'appartamento e alla barca possiedono anche un'altra casa parma una macchina un camper e titoli in banca per un totale di circa 200 milioni in cui l'agosto maledetto stanno per acquistare un terreno insomma non appartengono all'elite culturale della città ma possono permettersi vari agi tra cui le vacanze ogni anno anche all'estero ed è proprio attorno a questo piatto ecosistema a queste piatte superordinate esistenze che inizialmente pensano ad una loro fuga dorata nella concezione del mito di fantozzi e magari signori miei fosse stato davvero così la famiglia Carretta ad un certo punto non si sa quando forse nel corso di una notte diventa infelice un'infelicità unica e mal definita una sofferenza che non rende partecipe nessuno all'esterno e che rafforza i legami malati di chi vive all'interno perché seguitemi quella di Carretta è un'infelicità che è lenta e paziente arriva sfumata e piano piano diventa nitida e si espande una goccia alla volta fino a bucare il metallo dietro la patina del benessere e a casa tutti bene della normalità viene a galla una famiglia segnata da tanti problemi soprattutto che riguardano i due figli maschi e oggi è difficile stabilire se il malessere di questi due ragazzi sia in realtà frutto del loro ambiente di vita o se sono stati proprio i loro problemi ad incancrenire la famiglia Nicola Carretta nasce nel 1966 ha un'infanzia serena e con il suo fratello maggiore di 4 anni condivide molti giochi e piccole malefatte poi qualcosa cambia quando Nicola ha 8 anni Ferdinaldo smette di essere il suo punto di riferimento perché il fratello maggiore inizia a comportarsi da strano è scostante spesso lamenta degli svariati mali che sembrano immaginari insomma è un processo lento come vi ho detto e dentro questa trasformazione Nicola sperimenta un forte disagio dopo la scuola dice no a proseguire gli studi è un colosso alto muscoloso ama curare il fisico porta i capelli lunghi tra i 19 e i 20 anni inizia a frequentare bar della zona e poi arrivano anche delle cattive compagnie la cosa non è correlata è bar e cattive compagnie che cosa accade entra l'eroina in casa carretta ma stavolta con violenza Nicola si buca ovunque e lascia il lavoro lo fa per anni in compagnia di Tano e Marco quelli che per tutti a Parma sono i drogati storici con loro si scambia le siringhe e mette insieme i soldi per le dosi Tano e Marco sono entrambi sieropositivi e poco dopo muoiono lasciando Nicola solo e contagiato i carretta così mandano Nicola in America per un lungo viaggio e quando torna è cambiato profondamente è magro è sciupato è fragile al posto dei capelli lunghi un cranio calvo tutti in giro per Parma lo dicono piano e forte il piccolo De Carretta ha preso l'HIV e ricordatevi gli anni che sono questa è la prima volta in cui la paura della morte entra in casa Carretta Nicola ha paura di contagiare i familiari attraverso il rasoio gli asciugamani lo spazzolino da denti e nonostante ne sia ossessionato continua a farsi ad un certo punto però Nicola si fa aiutare dei genitori perché non ce la fa più così entra in una comunità di recupero in Umbria ricomincia a lavorare come autotrasportatore va a pesca con il padre per tenersi impegnato diventa a suo malgrado un protagonista della famiglia perché i suoi problemi sono palesi a differenza di quelli di Ferdinando verranno trovate due cartelle mediche dei figli di Carretta quella di Nicola è alta così piena di visite di referti quella di Ferdinando possiede solo pochi fogli relativi all'infanzia il primo genito è avulso come un estraneo che si aggira per casa non visto non compreso nella sua profonda disperazione che attenzione però viene percepita e anche temuta soprattutto poco prima dell'omicidio Nicola parla con una psicologa del Certe di Parma per considerare l'ingresso in una nuova comunità terapeutica e lo accompagna la madre Marta e qui Nicola racconta la psicologa di un fratello maggiore che non esce più di casa e della paura di lasciare i genitori soli con lui timore ancora più vivo quando la famiglia Carretta scopre che Ferdinando ha una pistola Giuseppe Carretta molto turbato lo racconta ridicolante vorrà dire qualcosa a questo gesto Nicola invece lo dice agli amici e da anni i condomini sentono le urla tra il figlio maggiore ragionier Carretta ma ultimamente le cose sono impicchiata non sentono più solo urla ma anche oggetti scagliati a terra sedie mobili rovesciati arriva una notte persino la polizia e in ufficio Giuseppe per giustificare i tagli e i lividi che ha sulle mani sulla testa e sulla faccia dice lo sapete nel mio appartamento ci sono tanti spigoli è davvero difficile difficilissimo ammettere la malattia dei propri figli e la storia di questa famiglia lo dimostra loro sono incapaci di comprendere il malessere del figlio Ferdinando e di chiedere aiuto un figlio che lo vedremo poi troveranno un giorno a defecare in salotto o a fare pipine calici di cristallo ma loro restringono questa cosa ad una bizzarria che va corretta sono gli anni Ottanta e la famiglia Carretta viene travolta da un lato e dall'altro disturbo psichico e siropositività del disturbo psichico negli anni Ottanta si parla a bassa voce con vergogna la legge Basaglia nel 1978 chiude i manicomi però senza entrare nel dettaglio della legge chi è malato viene ora chiuso tra le mura domestiche e rimane solo in più c'è quello che appunto in quegli anni il peggiore degli stigmi ovvero l'ADS di Nicola e il contagio d'HIV quando Nicola si ammala i siropositivi sono ancora trattati come dei reietti dunque possiamo immaginare perché ad un certo punto i carretta smettano proprio di parlare dei figli e innalzino un muro intorno a casa per proteggersi ma dentro questo muro Nicola trova comprensione e protezione riscopre mamma e papà e si appoggia a loro parte sempre in vacanza con loro Jugoslavia Austria Ungheria ma non è tutto idilliaco cioè badate bene fino al giorno della sua morte Nicola non si libererà mai dello spettro della droga tuttavia per Ferdinando va ancora peggio nascosto dentro la sua cameretta immerso nei suoi deliri lui sente che esiste una triade da cui lui è spietatamente escluso lui inizia ad essere convinto che mamma e papà e Nicola lo vogliano morto ma lui non vuole morire l'unico modo per vivere dunque è disegnare per primo un disegno di morte per loro più tardi appunto come vi ho detto aspettate parleremo nel dettaglio anche di Ferdinando però vi faccio aspettare ancora un po' e quindi ora torniamo un attimo alla parte delle indagini e poi passiamo a Ferdinando torniamo a quel 1989 e capiamo come sono andate le indagini ok che cosa è accaduto al momento della scomparsa di Carretta come si è arrivati a tanto allora ad occuparsi inizialmente del caso è il maresciallo Sabatino dei Carabinieri in via delle Fonderie e viene effettuato un primo sopralluogo sabato 16 agosto trovano tutto pulito in ordine pensano dunque ad un incidente in viaggio viene diramata una descrizione di Giuseppe di Marta e di Nicola e di Ferdinando sul suolo nazionale e le ambasciate italiane dei paesi previsti nell'itinerario del viaggio poi pensano appunto a Nicola dal momento che trovano quella sua lettera e scoprono la sua storia di tossicodipendenza forse un desiderio di cambiare vita ma poi spostano il focus su Ferdinando che ha in effetti prelevato dai conti di famiglia l'8 agosto tre giorni dopo la presunta scomparsa la presunta partenza dunque è chiaro che Ferdinando non è partito con il resto della famiglia le indagini si arenano finché non viene ritrovato finalmente il camper a Milano ed esso racconta qualcosa ma per enigmi e complica ancora di più la situazione non c'è nessun segno di frazione le portiere sono aperte ci sono le chiavi tutto in ordine poi c'è il giallo di tre rullini fotografici vengono notati al momento del primo sopralluogo all'interno del camper e vengono fotografati dalla scientifica ma quando l'indomani il 20 settembre il veicolo è sottoposto a sequestro e trasportato al commissariato ecco che i rullini non ci sono più il giovane sostituto procuratore che si occupa del caso è Antonio Di Pietro 39 anni allora piuttosto sconosciuto e ha le idee molto chiare e non crede alla tesi del mondo della droga che gravita attorno a Nicola lui cerca nelle pensioni negli alberghi della zona per capire se qualche carretta avesse soggiornato lì fa ricerche negli aeroporti di Linatta e Malpensa nelle stazioni e nelle agenzie di viaggio convoca i familiari di Carretta insieme al dirigente della sezione omicidi di Milano Guido Marino si presentano a colloquio Paola Carretta sorella di Giuseppe e Adriana Chezzi sorella di Marta Di Pietro infatti non crede alla fuga volontaria e apre un fascicolo per omicidio e non ci crederà mai anche quando tutti diranno che sono fuggiti ai Caraibi e anni dopo quando Antonio Di Pietro avrà abbandonato la carriera da magistrato per abbracciare la politica dirà mi derisero ma avevo ragione io il 29 novembre anche Antonio Di Pietro si reca a Parma alla casa di Carretta al Molo per vedere la barca a vela e al garage ispeziona tutto per ore con scrupolo lui trova in casa segni di una lotta c'è un armadio del salotto che ha una gamba rotta nel frigo c'è ancora la spesa dentro le buste nel bagno ci sono tre spazzolini e rovistando tra le carte scopre che Giuseppe aveva appena ordinato una camera da letto nuova le linee telefoniche messe sotto controllo confermano che nessuno tra i parenti li aveva più visti né sentiti dal 4 agosto insomma per Di Pietro tutto questo sommato all'acquisto di una pistola da parte di Ferdinando e l'aver incassato i soldi del padre del fratello portano a stendere il dito proprio contro di lui contro il primogenito di Carretta lui dice dobbiamo cercare tre cadaveri non quattro fuggiaschi e poi da cosa dovevano fuggire? il PM chiede così che vengano azionate le ruspe intradiscariche tra cui quella di Vierolo dove effettivamente ci sono i tre cadaveri sepolti purtroppo i corpi non vengono trovati e senza prove tra le mani il segugio di Pietro torna a Milano con un pugno di mosche passano tre anni e nulla di concreto e così nascono le più bizzarre teorie i corpi non si trovano dunque saranno davvero fuggiti a far la vita da Nababbi ed è proprio nel Mar dei Caraibi che si concentrano maggiormente le indagini molti agenti della polizia volano in Venezuela battono a tappeto l'isola di Margherita ed Aruba e protagonisti di queste ricerche sono in particolare Alfio Manoli maresciallo e Gerardo Tirri maresciallo della Guardia di Finanza ribattezzati Mimi e Cocò questa coppia è famosa per cacciare prede in giro per il mondo e in quegli anni a Parma c'è stato anche il caso di Carlo Mazza il giallo di Carnevale vi ho già raccontato il caso sul canale se volete e sono proprio loro a rintracciare la latitante Catarina Miroslava quindi loro sono molto famosi in questo settore e sono convinti di ritrovare Carretta Vivi ma la confessione di Ferdinando spazzerà via le loro speranze il 5 novembre del 1998 l'Interpol finalmente dà una notizia bomba alla procura di Parma finalmente hanno rintracciato uno dei Carretta Nicola questo mentre effettuava delle consegne a Londra per una ditta poco dopo però si scopre che è Ferdinando in realtà e che il controllo è del 27 ottobre partono subito degli agenti e rintracciato il luogo di lavoro del Carretta scoprono il suo indirizzo lo trovano a casa e nel corso di un colloquio informale Ferdinando nega ogni responsabilità raccontando di essersi trasferito a Londra dopo un esaurimento nervoso racconta anche che i genitori del fratello Nicola erano fuggiti con i fondi neri della cerve sì lui aveva comprato una pistola ma per uso ricreativo e se ne era disfatto la partenza il padre Nicola inoltre gli avevano fatto dono di quegli assegni riscossi dopo questo incontro piuttosto strano il 21 novembre viene emesso un ordine di custodia cautelare contro Ferdinando Carretta nessuno crede a Ferdinando e Ferdinando è accusato di aver premeditato e ucciso i suoi genitori e il fratello di aver occultato i cadaveri e di essere scomparso Ferdinando ve l'ho detto viene arrestato il 29 novembre all'aeroporto di Fiumicino mentre è con la truppe di chi l'ha visto ed è assolutamente ignaro del mandato di cattura spiccato contro di lui dopo nove anni rientra a Parma e rivede la sua città alle 23.15 l'auto arriva davanti alla caserma dei carabinieri vogliono interrogarlo subito così Ferdinando fino alle 2 del mattino ripercorre quel 4 agosto del 1989 insieme a loro come vi ho raccontato all'alba viene trasferito al carcere di via Burla posto in isolamento nel braccio sud solitamente riservato ai detenuti del 41 bis dunque carcere duro viene guardato a vista nella sua piccola cella per evitare che si faccia male c'è una brandina un tavolino con sedia due fornelli e un bagno con separè in cartongesso la notte dorme con una piccola luce di cortesia per essere sempre visibile i primi giorni sono tranquilli Ferdinando mangia beve come se nulla fosse viene visitato dal medico che lo dichiara fisicamente sano come un pesce rifiuta il prete lo psicologo e l'assistente sociale ma non si vuole isolare chiede di parlare con le zie e prega il suo avvocato di telefonare a Londra al suo capo e al proprietario dell'appartamento per spiegare la situazione cioè per spiegare che si assenterà per un po' trovi le parole giuste Ferdinando esce diverse volte dalla cella per essere torchiato dal piamo e brancaccio chiaramente perché le sue parole non bastano infatti la discarica di Vierolo è immensa e loro hanno bisogno che Ferdinando indichi loro il punto dove cercare Ferdinando guarda le mappe delle riprese aree e appare molto stanco perché sono giorni che non dorme ma non riesce a trovare il punto viene anche accompagnato sulle rive del canale dove racconta di aver gettato il povero gatto di famiglia la pistola lui indica un punto preciso su pressione dell'avvocato viene richiesta ovviamente una prima perizia psichiatrica per capire se Ferdinando 36 anni può rimanere dentro al carcere o se quella vita non sia compatibile con la sua psiche e il primo ad occuparsi di lui è il professore Cesare Piccinini e lui conferma che il suo quadro clinico non è compatibile con la vita in carcere così Ferdinando l'8 dicembre viene trasferito all'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione dell'Estiviere e come dirvi alla fine sono anni che si rimanda il suo ingresso in un reparto di cure ma ora a quel momento è arrivato e qui attende il suo processo intanto si fanno anche delle ricerche a Londra si continua a cercare qualcosa ma non trovano granché il datore di lavoro di Ferdinando riferisce che l'uomo aveva dichiarato di avere moglie e figli e che ogni volta che lo contattava a telefono udiva il sottofondo di bambini in realtà è una probabile anzi una certa copertura per confermare l'immagine di un uomo diverso e non completamente solo e senza reti sociali a questo punto le indagini sono nuovamente ad un punto fermo perché si Ferdinando ha confessato e appare molto sicuro di sé eppure nessuna prova conferma la sua confessione non c'è l'arma del delitto non ci sono testimoni e soprattutto non c'è la prova regina ovvero i cadaveri di mamma papà e fratello e di nuovo sui giornali spunta qualche dubbio forse Ferdinando sta ancora coprendo la sua famiglia fuggita chissà dove e si è addossato la colpa oppure è un mitomane senza qualche prova certa Ferdinando potrebbe essere assolto così provano a smuovere la discarica ma dirvi che è come cercare un ago in un pagliaio è assolutamente riduttivo dal 1989 a quando fanno le ricerche la discarica è completamente cambiata e i magistrati sono sgomenti perché solo un miracolo dicono può far ritrovare qualcosa lì sotto davanti ai loro occhi ci sono ettari ed ettari di una plaga desolata fangoro vister paglie immense piramidi di sabbia e ghiaia le imprese edili negli anni hanno scaricato montagne di calcinacci e anche le esondazioni del taro hanno contribuito a mutare la struttura del luogo ferdinando proprio non sa più orientarsi vengono effettuati dei rilievi col georadar cioè con una sorta di talpa elettronica che analizza la composizione del terreno e la presenza di delle zone smosse dall'uomo e di delle cavità ma non emerge molto solo montagne di giocattoli oggetti vecchi e tronchi vengono inviati a irris di parma alcuni oggetti di interesse che forse hanno una qualche rilevanza due teli una coperta ma non trovano alcuna traccia trovano anche due ossa ma sono di animali e capiscono dunque che dalla discarica non otterranno nulla e dopo due settimane interrompono le ricerche bene il 15 dicembre il PM Brancaccio chiama il biologo tenente colonnello dei carabinieri e comandante di irris Luciano Garofalo lo esorta dopo nove anni ad entrare nella casa del delitto e a trovare qualcosa qualsiasi cosa questa è una casa che è rimasta sostanzialmente invariata c'è ancora l'arredo anni settanta e tutto il mobilio in quegli anni l'appartamento è rimasto vuoto salvo alcuni mesi in cui vi hanno abitato due giovani metalmeccanici quella stessa sera alle ore 19 la squadra del ris al completo con le loro tute bianche entra all'interno dell'appartamento e sono passati davvero molti anni ma è anche vero che in questi anni ci sono stati molti progressi quindi qualcosa potrebbe giocare a loro favore come prima cosa loro fanno una perizia balistica per riprodurre la tesi di Ferdinando Carretta cioè possibile che nessuno abbia sentito in pieno agosto con le finestre aperte per il caldo tutti quegli spari così ricreano la stessa situazione raccontata da Ferdinando quindi sigillano tutte le finestre di Carretta esplodono gli spari e ascoltano dall'esterno e la tesi viene confermata con le chiacchiere la vita del tardo pomeriggio la televisione accesa non si sente inoltre l'arma usata è piccola e silenziosa allora cercano il sangue e come vi ho detto sono passati nove anni ma ci sono dei progressi ora si avvalgono di due amichetti il Crime Scope CS16 una lampada potente che individua fluidi corporei impronte digitali e di suole su varie superfici ed illuminol un composto chimico reagente in grado di rilevare macchie di sangue anche lavate e molto vecchie emettendo una luce blu elettrica osservabile nel buio più completo il Crime Scope non individua nulla niente i test iniziano dal ripostio dove dovrebbe aver avuto inizio la mattanza spostano tutto tolgono le porte cercano in ogni fessura ma nulla e a mezzanotte entrano nel bagno dove Ferdinando ha raccontato di aver depositato la sua famiglia a macerare nella vasca come zucchine marinate uno sopra l'altro sono rassegnati quando il luminol individua una piccola macchia sulla cordicella d'allarme della vasca poi tolgono anche il porta sapone sapete quelli vecchi che sono attaccati al muro e anche lì sotto sulla mattonella c'è un lungo sbaffo marrone il combur test conferma che è sangue altre tracce di sangue vengono ritrovate sulla base di legno sul fermo di metallo e sul tassello di gomma con cui si attacca la vaschetta alla parete biologi molecolari individuati analizzano i campioni ed è sangue umano ma fatto ancora più soddisfacente è sangue umano misto appartenente a donna e a uomo però ora devono dimostrare che appartenga ai carretta non dispongono dei corpi di Giuseppe di Nicola e di Marta quindi devono utilizzare il sangue dei genitori dei coniugi uccisi quindi dei nonni di Ferdinando e di Nicola ma non sono più in vita ad eccezione della signora Gina la madre di Marta per avere però un riscontro serve sia il profilo della madre che quello del padre così i nonni di Ferdinando vengono riesumati e poi vengono raccolti campioni di saliva dalle zii ancora in vita e dalla nonna ricostruendo il patrimonio genetico di Carretta il confronto conferma che le tracce sono riconducibili a Carretta non possono dire che siano proprio le loro ma comunque questo è già più che sufficiente e con questi risultati il PM Brancaccio porta Ferdinando Carretta a processo ok ci stiamo avvicinando alla fine vi ho parlato quasi di tutto della scoperta della cattura delle poveri vittime delle indagini manca solo un tassello Ferdinando Carretta Ferdinando nasce sotto il segno dello scorpione il 7 novembre del 1962 a Parma è un bambino introverso e non particolarmente socievole molto attaccato alla mamma dipendente da lei in seguito come talvolta avviene in questi casi svilupperà una relazione conflittuale con la stessa ama giocare con il fratello Nicola più piccolo di 4 anni e dal racconto di vicini e parenti appare come un bambino solitario ma dai comportamenti normali un rendimento scolastico conforme è capace è studioso non è tra i più bravi della classe ma i suoi voti e il suo comportamento non destano alcun segno di allarme quando avviene il passaggio tra le elementari e le medie qualcosa cambia è il 1973 Ferdinando ha 11 anni e la famiglia si trasferisce in quel luogo epicentro del male via Rimini al civico numero 8 la casa nuova di Zecca è stata desiderata dal papà coronamento di una vita di sacrifici perché è vicinissima alla cerve e anche la madre Marta è galvanizzata da questa novità Ferdinando invece vive uno squarcio interiore e proprio all'interno di queste mora si palesa per la prima volta lo stato psichico delirante un'ossessione che lo accompagnerà per tutta la vita ok cambiare abitazione quartiere amici scuola può essere un trauma per un bambino ma nel caso del giovane Ferdinando il suo trauma nasce da qualcosa di ben più definito il rumore dietro alla villetta c'è un'area dove i camioni tir di passaggio fanno manovra disturbando le acquiete di quell'angolino di paradiso residenziale Ferdinando non sopporta quei rumori e inizia a farne un'ossessione e agli occhi degli altri anche in modo piuttosto esagerato lui prova a parlarne con i genitori con cui fino ad allora c'è stato un rapporto di unione di comprensione e di dialogo quindi si sfoga con loro tutti i giorni nella speranza di trovare aiuto e conforto appoggiati dai vicini i genitori fanno qualcosa e presentano un esposto al comune ma senza ottenere alcun risultato il bambino così vive una sensazione di ingiustizia che si tramuta in mania di persecuzione non dorme più e si isola dal mondo stavo malissimo ero diventato completamente pazzo quella cosa lì mi ha ucciso il problema del chiasso dei tir si manterrà fino agli omicidi Giuseppe Carretta aveva scritto una lettera l'ennesima poco prima di morire al comune di Parma nell'aprile del 1989 questo è il periodo di massimo scontro con il figlio ma comunque continua a lottare in qualche modo e a chiedere un riconoscimento del disturbo della quiete pubblica ma il tentativo va ancora a vuoto Ferdinando però in tutti quegli anni si convince che quel chiasso dei tir che sente gli impedisca di defecare di andare di corpo di liberare il suo intestino ho sempre avuto difficoltà a fare i miei bisogni di fronte agli altri sin dal 1973 i rumori mi causavano disturbi del gabinetto non defecavo bene questi rumori erano come dentro di me dentro la testa mi disturbavano e stavano sempre là vi sarebbero rimasti per sempre mi avrebbero rovinato in queste parole era chiuso il suo dramma un dramma che inizia con una macchia nera nella psiche di un bambino che si allarga trasformandolo in un pluriomicida da grande il problema del non andare in bagno diventa un nuovo problema si convince che il non defecare correttamente provochi una metamorfosi nel suo aspetto fisico si guarda allo specchio e vede una faccia troppo lunga troppo gonfia un sedere che aumenta e soprattutto un pene sempre più piccolo e il pene è quello che lo tormenta di più soprattutto da adolescente non ho mai voluto avere rapporti con una donna in vita mia a causa di questa situazione il mio pene sarebbe stato normale se fossimo andati a vivere in una casa normale come lo sono quasi tutte a Parma Ferdinando si masturba tutti i giorni tre volte al giorno solo per accertarsi che funzioni tutto correttamente meglio andavo di corpo e meglio andavano le cose sessuali se c'era qualcosa di stagnante al contrario le mie funzioni ne risentivano negativamente il fatto di percepirsi fisicamente mostruoso causa in Ferdinando la sensazione di essere inadeguato agli occhi delle donne del mondo e così diventa sempre più chiuso e solitario e i suoi mostri interiori i suoi deliri schizofrenici e le manie di persecuzione avanzano sul campo di battaglia nella relazione stilata dallo psichiatra Piccinini si legge questo è questa sensazione di essere trasfigurato a renderlo insicuro e a portarlo a non avere più rapporti con le persone mano a mano che le idee ossessive riguardanti la funzione fisiologica prendono il sopravvento si struttura nella sua mente il delirio un delirio che ha sia caratteristiche allucinatorie dismorfofobiche il danno fisico come conseguenza delle difficoltà delle funzioni fisiologiche sia paranoidi gli altri che lo guardano e lo osservano in quanto vedono in lui i tratti rivelatori del suo problema una tra le paure maggiori di Ferdinando è di sentirsi osservato soprattutto in strada e che la sua deformità venga notata e questo aspetto continua a manifestarsi anche a Londra anche a Londra vedevo i gesti d'intesa delle persone che dicevano tra loro guarda quanto è strano non conoscendo il mio problema forse pensavano male di me all'epoca facevo schifo mangiavo e non andavo in bagno questa è una fissazione che si porta dentro anche al carcere lui si trova bene in carcere ma c'è un unico problema la sua cella è davanti al tavolo della gente e il water sotto tiro e lui non riesce ad andare in bagno dunque l'immagine fisica di Ferdinando fin da bambino è del tutto compromessa e così non riesce a strutturarsi un io sano di fronte a ciò Ferdinando prova a cercare delle soluzioni ovvero per lui tutto si traduce nel defeccare serenamente e quindi adotta alcune strategie sempre più complesse e sradicate dalla norma comportamenti compulsivi rituali ossessivi e solitari dove Ferdinando sporca quello che è il nido familiare che non lo comprende e che simbolegge il successo del maschio alfa di casa il padre e la sua dolorosa esclusione da parte della sua famiglia per svuotare il suo intestino sceglie orari particolari o la notte o i giorni festivi e soprattutto identifica il salotto come luogo dove celebrare i suoi riti di liberazione perché è la stanza più interna e dunque meno rumorosa ed è proprio nel salotto che Ferdinando nel 1982 a 20 anni vive un secondo squarcio della sua esistenza la sua psiche è già molto fragile e verrà rasa al suolo e i medici che si sono occupati del suo caso la definiscono la scena madre una sera intorno alle 23 Giuseppe Carretta è in casa e trova suo figlio Ferdinando in piedi in salotto con i pantaloni e le mutande abbassate e fogli di giornale a terra avevo organizzato tutto mettendo un giornale sul pavimento una notte mio padre mi ha visto defecare e io sono rimasto impietrito mi ha puntato il dito contro e mi ha urlato non farlo più perché non sai che cosa ti succederà non sai cosa ti faccio io ero come un bambino lui mi ha scoperto e l'ha detto alla mamma questa è una coccente umiliazione e rabbia tanta rabbia perché il salotto è l'unico luogo in cui lui si sente al sicuro e protetto un posto dove elaborare le angosce che prova se riesce se riesce a defecare lui sta meglio reagisce ai rumori e il suo corpo non si deforma nel suo vissuto è l'unico modo che conosce per sopravvivere a quel dramma e il padre trattandolo in quella maniera glielo ha impedito le condizioni mentali di Ferdinando da quel momento precipitano da allora è stato come se mio papà mi impedisse di andare di corpo mi ha completamente ucciso la scena madre dunque l'immagine di suo padre con il dito puntato contro il suo dolore inizia a perseguitarlo e da lì nasce l'idea di commettere patricidio non sopportavo che mi guardasse sentivo il suo rimprovero il suo disprezzo era un'ossessione per me dal suo arresto Ferdinando ha sempre collaborato ma durante le visite con gli psichiatri oppone resistenza alla scena madre cerca di non riviverla di non parlarne e quando ci riesce questo è l'unico episodio di cui dà due versioni diverse nella prima il padre entra in salotto mentre lui nasconde le sue feci in un'altra versione invece il padre intuisce solo le sue intenzioni ma poi a destabilizzare ulteriormente la situazione arriva un nuovo elemento lui inizia ad avere difficoltà anche ad urinare a liberare la vescica così elabora un nuovo rito cioè urinare dentro dei calici di valore quelli delle occasioni speciali la famiglia ne possiede sei dipinti e conservati nel mobile tutte le volte che Ferdinando deve fare la pipì ne prende uno e di nascosto ci urina dentro poi lo sciacqua e lo ripone al suo posto una mattina però la madre trova dell'urina dentro ad un bicchiere mentre pulisce e pensa subito a quel suo primogenito problematico così piomba nella sua stanza e gli dice come mai fai la pipì nei bicchieri non farlo più anche questa volta per Ferdinando è una crisi spaventosa perché lui è stato di nuovo scoperto non ha più segreti loro lo sanno ed ecco che la madre diventa un prolungamento del padre dei suoi divieti e della sua autorità crudele quel non farlo più per lui diventa la dannazione eterna se mia madre non vuole che io mi liberi allora lei vuole che io muoia per Ferdinando la sua mamma diventa una pedina nelle mani del marito tiranno e la fusione di madre e padre aumenta la portata persecutoria perché tutto è doppio doppia umiliazione doppia ingiustizia doppio abbandono Ferdinando si convince che uccidere il padre non basta non basta liberarlo perché poi la madre avrebbe preso il suo posto denunciando i suoi segreti la mamma avrebbe detto a tutta Italia che io in salotto lei sapeva tutto sapeva che lo avrei ucciso perché lui mi aveva trovato in salotto in mutande e alla fine lo stesso vale anche per Nicola che secondo Ferdinando è legato il padre Giuseppe da un forte senso di identificazione e allora alla fine capisce che deve eliminarli tutti e tre per essere libero vedevo la situazione senza via d'uscita sarei potuto andare ovunque ma non sarebbe cambiato nulla avevo pensato di andarmene ma poi mi sono detto se sono lontano e la cosa non cambia cosa faccio torno e li ammazzo tutti i periti nelle loro perizie di parte e non di parte diranno una cosa all'unanimità cioè Ferdinando si era davvero convinto che per essere libero non soltanto doveva uccidere i tre familiari ma anche eliminare i loro corpi dunque è qui che ha inizio quando i genitori di Ferdinando irrompono nei suoi reti evacuativi ma i suoi occhi lo giudicano e basta poi tornano ad ignorarlo questo rompe quei piccoli equilibri che gli avevano permesso di mantenere una parvenza di vita normale infatti Ferdinando riesce a diplomarsi seppur cambiando diversi istituti alcuni suoi ex compagni lo descrivono come un ragazzo timido e sempre puntuale e comunque tra i migliori della classe bravo nelle materie tecniche ad esempio si diploma ragioniere come il padre e poi prova a fare qualche lavoro saltuario tra cui un'esperienza presso la sede della Nestlé e anche qui il dirigente della Nestlé come disse anche il preside di ragioneria lo descrive come un individuo tranquillo con comportamenti nella norma e dirigente dopo quell'incidente in salotto un anno dopo il diploma nel 1983 Ferdinando viene reclutato nel servizio militare ma rientrato a casa la situazione non è migliorata il padre prova a trovargli un impiego in banca un posto fisso ma Ferdinando rifiuta iniziano anni di agonia ansia ed esaurimento nervoso e tutto questo malessere inizia ad inondare l'esterno Ferdinando si chiude serrato nella sua stanza anche a chiave per essere certo che nessuno possa entrare sta lì e pensa e ripensa si consuma trascorre intere giornate nella stanza non esce di casa non frequenta nessuno quando è costretto ad uscire controlla dallo spioncino o dal balcone che nessuno sia in giro smette anche di incontrare la sua stessa famiglia signori e signore non mangia nemmeno con loro con mamma papà e con Nicola loro sono al tavolo e lui invece consuma i pasti in stanza persino a Pasqua e a Natale le zie e i nonni non lo vedono quando vanno in visita a casa carretta lui non si fa trovare eppure quando gli chiedono come mai lui non sia semplicemente andato a vivere via Ferdinando ammette che lui non voleva farlo perché si sentiva troppo legato ai genitori nonostante tutto lui desiderava tantissimo nel suo interno più profondo riportare indietro le lancette del tempo e tornare la famiglia felice di infanzia secondo i periti Ferdinando alterna due macro emozioni nei confronti dei genitori sottomissione e risentimento entrambe queste componenti quella aggressiva e quella regressiva testimoniano la presenza di un processo incompiuto di separazione dei genitori di uno sviluppo che ha drammaticamente bloccato la sua sessualità agli stadi pregenitali l'uccisione quasi rituale del padre appare a Ferdinando la soluzione per spezzare il rapporto morboso che lo lega ai genitori in particolare alla figura paterna tanto indissolubile quanto patologico ed è qui che si allarga la tristezza perché negli anni del suo isolamento Ferdinando non riesce a comunicare a nessuno la disperazione che lo divora non c'è nessuna forma di dialogo e i suoi familiari sono consapevoli di convivere con una persona disturbata ma non fanno nulla non lo comprendono probabilmente o hanno paura o forse è mancanza di interesse oppure di strumenti non lo sappiamo però sembra e Ferdinando lo percepisce così che abbiano rinunciato a lui del tutto Ferdinando è la realtà che parla chiede aiuto in modi molto strani e si isola totalmente ma nessuno gli dona alcuna considerazione non c'è risposta e c'è un dato ancora più devastante perché Ferdinando nella sua condizione non ha mai visto un medico se non quello di famiglia mai uno specialista mai uno psichiatra uno psicologo e Ferdinando non parla con nessuno dei suoi pensieri ma forse vorrebbe farlo e liberarsi però non ce la fa infatti nove anni dopo lo farà a quel giornalista gentile di chi l'ha visto così interessato a lui gli dà attenzione e lui rompe la diga e l'acqua sgorga anomala travolgendo tutto e tutti dopo la prima confessione Ferdinando inizierà a parlare assaporando il gusto di essere finalmente ascoltato e sentendosi più sollevato prima dell'omicidio invece Ferdinando si convince che nessuno voglia ascoltarlo e chiude i rubinetti del canale comunicativo piano piano il disturbo paranoide peggiora e non si concentra più sulla presunta deformità del suo corpo ma sul fatto di non essere voluto in famiglia e di essere addirittura odiato da loro Ferdinando vede la mamma il papà e Nicola come una triade uniti in qualcosa di bello mentre lui è trattato in modo crudele lui dirà Nicola era un'altra cosa per loro Ferdinando litiga con Nicola è geloso di lui e ha paura perché Nicola è molto forte e spesso interviene a difesa dei genitori agli occhi di Ferdinando dunque diventa un ostacolo tra lui e l'amore dei genitori è tormentato da un pensiero Nicola e il padre nonostante tutti i problemi di Nicola sono riusciti a legare e il processo di identificazione è risultato perfetto infatti il padre si interessa e considera i problemi di dipendenza di Nicola e lo aiuta e a volte i due hanno anche delle discussioni che per lui sono il segno di un rapporto alla pari cosa che lui può soltanto sognare no lui non si sente identificato con quel padre si sente inferiore e ha paura di lui lo descrive semplicemente come severo ma in realtà gli episodi di scontro fisico tra i due si accentuano anche se spesso Ferdinando vuole ricordare i suoi genitori come bravi genitori persone che lui ama profondamente afferma nei momenti di serenità che lui ha avuto la famiglia migliore del mondo e che era lui quello con i problemi non loro ma dopo poco torna anche la rabbia per non essere mai stato compreso per l'indifferenza genitoriale come quando ricorda il camper acquistato per i problemi di Nicola per distrarlo mai nessuno ha fatto qualcosa per lui e per i suoi di problemi là dentro dice per me non c'è spazio ogni anno dal buco della sua stanza impenetrabile sente i tre fuori vivere e progettare la vacanza con il camper batti beccano sull'itinerario su cosa portare in valigia Ferdinando dice di non voler andare in mare altamente sente di essere escluso e sa di non poter affrontare un viaggio per i suoi problemi Ferdinando ammette di aver pensato tante volte al suicidio ma di essere stato troppo codardo eppure non ha tentennato quando ha tolto la vita ai genitori e al fratello lui pensava di rinascere ma in realtà quel giorno è morto con loro quando si commettono atti di questo tipo si può scappare e cercare di rifarsi una vita al meglio che si può senza guardarsi indietro io non ce l'ho fatta il passato ritorna sempre la paura il senso di colpa sono cresciuti in maniera sproporzionata forse ho sofferto di più facendo una vita libera di quanto avrei fatto stando in prigione adesso vado incontro alle giuste conseguenze il processo contro Ferdinando Carretta inizia il 3 novembre del 1999 è un processo straordinario perché si accusa che difesa vogliono la stessa cosa assoluzione per infermità mentale in quanto incapace di intendere volere al momento del delitto Ferdinando partecipa in videoconferenza perché non se la sente a livello psicologico di partecipare nonostante questo regala a tutti ancora una volta il suo agghiacciante racconto la sua confessione viene ritrovata ancora una volta attendibile Ferdinando è malato certo ma dice la verità anche il riscontro sulle prove da esito positivo il sangue le perizie balistiche i dissidi familiari confermati dai dipendenti della cerve dai parenti dai vicini l'acquisto dell'arma del delitto come Ferdinando si sia disfatto dei cadaveri una persona alta quasi un metro e novanta con la sua stazza poteva benissimo trascinare i corpi e anche la macchina utilizzata poteva contenere tre cadaveri e ora è davvero buffo pensare a queste tre persone fuggite ai Caraibi lasciando tutto dietro di loro persino l'acquisto di un terreno poco prima di morire o il rinnovo di titoli di stato a che pro loro credono a Ferdinando il movente è chiaro e l'ho ampiamente spiegato parlandovi di Ferdinando quanto all'incapacità di intendere di volere nessuno solleva obiezioni viene stabilito che al momento del delitto Ferdinando presentava un grave quadro dissociativo psicosi schizofrenica caratterizzata da delirio sistematizzato con idee paranoidi e false percezioni di tipo dismorfofobico isolamento sociale e alterazione delle relazioni familiari un contesto familiare suo non sano patologico senza adeguate relazioni e dialogo e con gravi problemi di entrambi i figli in cui però soccombere è stato Ferdinando infine viene stabilito che Ferdinando Carretta all'epoca del processo è ancora pericoloso così Ferdinando il 15 novembre viene assolto per vizio totale di mente e internato in ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore ai 5 anni Ferdinando accetta la sentenza e dice so di dovermi curare spero un giorno di poter guarire così Ferdinando passa i successivi anni a Castiglione delle Stiviere in una camera tutta sua in questa grande struttura immersa nel verde mantovano vive in modo tranquillo sveglia alle 7.30 colazione passeggiata acquisti allo spaccio tempo in giardino alle 23 torna a dormire sul comodino ha una candela a forma di orsetto e una copia della rivista lavoro interinale per quando riceverà i primi permessi premio poi anche l'immagine di una madonna lui ricorda spesso sua mamma Marta che lo invitava ad andare a messa insieme riscopre anche la fede e il suo più grande dolore dirà è il fatto di non aver mai dato una degna sepoltura alla sua famiglia di non essere riuscito a ritrovare i loro resti che oggi oggi per lui sono degli amabili i resti legge molto romanzi libri di storia contemporanea partecipa a molti corsi come quello di restauro e di sartoria ma è la scrittura la sua attività preferita riceve anche molte lettere da donne in particolare che gli mandano anche delle foto dei vestiti dei regali riceve anche qualche visita e tra questi viene in visita anche la zia Paola Carretta che nel 2001 intenta una causa civile chiedendo ai giudici che l'eredità di Carretta non passi a Ferdinando nonostante questo Ferdinando mantiene con la zia dei buoni rapporti fa poi amicizia anche con alcuni pazienti tra cui una ragazza americana di nome Evelyn con cui parla in inglese nel 2004 riceve la semilibertà di giorno esce va a Mantova per frequentare un corso di informatica e l'anno seguente l'eredità dei genitori viene in effetti assegnata alle sue zie un patrimonio di 500.000 euro più due appartamenti i titoli di stato e il denaro conservato nei conti bancari Ferdinando però presenta ricorso e quindi chiede che gli venga data la sua parte a giugno del 2006 dopo sette anni e mezzo finalmente lascia l'ospedale e torna in Emilia Romagna il giudice decreta che lui debba vivere ancora in una struttura psichiatrica riabilitativa come quella in cui lavoro io la scelta ricade sul podere rosa a Forlì tra campi di mais e vigneti è una cascina che accoglie nove ospiti dieci con Ferdinando anche il podere rosa si ambienta bene e per lui viene stilato un progetto impiegandolo in una cooperativa che gestisce i parcheggi della città qui tiene la contabilità come faceva suo padre a questo punto lui sogna una vita normale un matrimonio magari dei figli nel 2008 gli viene concessa la libertà vigilata grazie alla relazione della psichiatra che lo segue in comunità e che non ravvede in lui più alcuna pericolosità sociale così può uscire passa le sue giornate come meglio crede e la sera rientra a dormire al podere rosa per quanto riguarda l'eredità in parte vince la causa contro le zie e si accordano a Ferdinando spettano 45.000 euro e la casa di via Rimini proprio quella in cui ha ucciso la famiglia quella casa tanto odiata e ovviamente lui non torna a viverci ma l'affitta fino a che non la vende per 200.000 euro e se ne libera quando l'acquistano i nuovi proprietari trovano il tempo fermo a quel lontano 4 agosto c'è la tappezzeria i mobili i letti tutto anni 70 nel 2015 Ferdinando diventa un uomo libero ha fatto il suo percorso decide di vivere nel centro di Forlì dove acquista un appartamento con i soldi della vendita della casa di famiglia continua a lavorare e viene anche seguito costantemente dai servizi sociali continua a pensare anche ai suoi genitori dichiara di sognarli e di sentirne la mancanza questo fino al giorno della sua morte che avviene forse per un disegno ben tracciato su di lui in completa solitudine ancora un vicino dall'allarme sono giorni che non vede Ferdinando è il primo giugno del 2023 quindi l'anno scorso lo trovano morto nella sua abitazione a 61 anni da tempo soffriva di una lunga malattia Ferdinando era già morto da tre giorni e anche qui non possiamo far a meno di pensare ai corpi di mamma papà e Nicola stesi per tre giorni nella vasca nell'agosto del 1989 dopo tutti questi anni Ferdinando li ha raggiunti e chissà se in qualche modo loro ora sono pronti ad accoglierlo nella loro triade a perdonarlo e ad abbracciarlo sono sicura che questo fosse il più grande desiderio di Ferdinando Carretta se qualcuno ha detto non riuscirà a dimenticare ciò che è successo spero almeno che potrà perdonarmi per quello che ho fatto questa storia mi ha scioccata veramente per me questa è una delle storie più disturbanti del nostro panorama italiano in materia di delitti e ho cercato di raccontarvela con la massima cura il massimo sentimento e la massima pignoleria che mi contraddistingue spero che sia stato apprezzato come sempre aspetto i vostri commenti noi ci vediamo ogni martedì alle ore 20 grazie a tutti Grazie.